E' bello raccontarci tra di noi esorcisti le meraviglie che il Signore ha operato nella nostra terra di Sicilia, quindi le diverse liberazioni che sono avvenute, in modo tale che insieme possiamo gioire, insieme possiamo lodare il Signore per quello che ha fatto per noi e ringraziarlo per quello che ha fatto per noi, lo scopo di questo incontro. Naturalmente abbiamo anche delle relazioni formative, ne sono appena quattro, ma il resto quest'anno saranno il racconto tra di noi di queste meraviglie che il Signore ha operato. Poi ci sarà in particolare una relazione, la prima parte formativa, cioè in relazione a un libro che è in fase di pubblicazione, cioè Il diavolo e i suoi attacchi al matrimonio. Ecco, ci sarà la parte formativa e poi ci sarà un'esperienza raccontata addirittura da chi è stata posseduta e poi liberata per raccontare quello che è avvenuto nella sua vita e quello che il diavolo ha fatto contro il suo matrimonio. Lui agisce non soltanto sul piano dell'azione ordinaria che sarebbe la tentazione, ma anche sul piano dell'azione straordinaria, cioè possessione, vessazione e investazione. Io ho avuto questa esperienza in questi vent'anni di diversi casi che non avrei mai immaginato, perché il primo anno che partecipai al convegno internazionale rimasi un po' scosso, perché un esorcista africano ci raccontò che nella sua terra avveniva un fenomeno strano a delle donne. Chiamavano queste donne quello che avveniva i mariti di notte, cioè delle presenze che le disturbavano sessualmente. Io tra di me ho detto, venivo dalla filosofia e ho detto, ma non ci siamo proprio, qui siamo proprio forse un po' matti, perché mi sembrava una cosa irrazionale, una cosa di questo genere. Quale fu la mia invece meraviglia quanto, ecco, esercitando il mio ministero in questi anni, ho avuto modo di incontrare casi del genere che lasciano veramente perplessi. Non si tratta naturalmente del demonio che abbia dei rapporti sessuali, perché è puro spirito, ma può attraverso l'avversazione suscitare nella donna proprio le sensazioni tipiche di una possessione diabolica che sono umilianti per una donna. Naturalmente una donna parlarne in confessione diventa una cosa difficile, già ha difficoltà a parlare di argomenti che toccano la sfera sessuale. Poi toccare questo tasto significerebbe sentirsi dire la prete, senta signora, farebbe bene a farsi visitare, da uno psichiatra, perché mi sa che lei debba essere proprio matta, e questo atterrorizza una donna. Poi magari si rivolge all'esorcista, che forse lui potrà comprendere il problema. E di fatto, ecco, mi sono accorto che c'è un cliché sempre identico, c'è delle donne che hanno amato i loro mariti sempre, hanno avuto la gioia di avere dei figli, però a un certo punto della loro vita è un fenomeno strano, c'è quello di avvertire una presenza che le disturba sessualmente. Poi inspiegabilmente, odio verso il proprio marito, inspiegabile, non ci sono ragione. Terzo punto, quando si hanno qualche rapporto sessuale, dolori atroci, vomito. Questo è più o meno il cliché. Se poi tu tocchi il tasto di asmodeo, le reazioni che avvengono subito, la persona entra in trance ed emerge, ecco, il demonio. Questo è quello che ho potuto notare in più casi, narrati anche in questo mio libro, ma questa, la conclusione che vengo a tiro fuori è questa, cioè se nel campo dell'azione straordinaria, che poi è molto limitata, cioè sono casi piuttosto rari, il demonio disturba il matrimonio perché odia il matrimonio, perché è un dono stupendo che il Signore ha fatto alla Chiesa. Se il demonio agisce sul piano della ossessione o versazione, ecco, per questo odio che ha verso il matrimonio, casi molto rari, c'è da pensare che sul piano dell'azione straordinaria, lui agisce molto di più. Il demonio può intervenire facendo l'amplificatore, cioè in certe situazioni magari di tensioni in famiglia, interviene lui, li amplifica per distruggire i matrimoni. E dietro tutto quello che sta avvenendo, ecco, contro il matrimonio così come l'ha progettato Dio, la domanda che mi faccio è solo opera umana o c'è dietro anche il demonio che amplifica, fa da amplificatore, lasciando la libertà alle persone, cioè sono loro responsabili di quello che fanno. Però c'è lui dietro. E sono arrivato a questa conclusione per diversi motivi. Il primo motivo è contratto dalla Bibbia, perché noi ci ricordiamo un particolare, per esempio nei confronti di Giuda che, come dire, ha dato la morte a Gesù. Certamente Ponsio Pilato che, come dire, l'ha condannato. I giudei le hanno chiesto la morte. Giuda che le ha tradito, pentendo il maestro, pentendo a denare. Però, ecco il punto. Se avessero la Bibbia queste testuali parole, il diavolo, avendo messo nel cuore di Giuda di tradire il maestro, dunque dietro Giuda c'era anche il diavolo che voleva la morte di Gesù. Ancora, in una circostanza Gesù, ecco, rivolgendosi agli ebrei che lo volevano uccidere, disse voi avete per padre il diavolo e volete seguire i suoi desideri. Allora sta rivelando Gesù che ci sono dei desideri. C'è un desiderio in particolare da parte del diavolo che è quello della morte di Gesù. Allora c'è da pensare che il diavolo, quello che fece adesso, è il suo modo di agire sempre. Cioè si inserisce, ecco, nelle punti deboli, ecco, della vita matrimoniale degli sposi per inserirsi in lui e incigantire, ecco. Per cui c'è da pensare che dietro tutto quello che avviene contro il matrimonio, così come l'ha progettato Dio, ci debba essere proprio anche il demonio, che non toglie la libertà, sono responsabili loro e il diavolo vorrebbe dire voi avete agito in questa maniera. Ma avviene quello che avviene, che avviene con un microfono. Io parlo, sono responsabile di quello che dico, ma sa di fatto che il microfono ha amplificato la mia voce e ha fatto raggiungere la mia voce a più persone. Riconoscerlo per quanto riguarda l'azione straordinaria è facile, è facile perché si vedono ecco i fenomeni piuttosto rari. L'avversione, per esempio, che ha la persona anche durante l'esorcismo, perché entra anzi verso il marito, un odio straordinario, però non appena avviene la liberazione anche temporanea, riaffiora quell'amore che sempre hanno avuto per il marito, perché in quel momento non c'è il demonio, ci siamo, e quindi già questo aiuta a discendere. Poi il consiglio che si dà alla cosa è quello di vivere intanto in amicizia con il Signore, nella preghiera, cioè più siamo vicini al Signore, più l'azione del demonio si annulla, non può agire. Mentre quando noi più siamo distanti, gli sposano più distanti dal Signore, è chiaro più lui può agire. E poi in particolare, anche in certe situazioni, come dice Canto della Messa, bisognerebbe chiedere al Signore di rendersi presente proprio nella loro famiglia, di invocare l'aiuto del Signore perché intervenga. Certamente se una coppia ha questo atteggiamento di supplica del Signore, certamente lui manterrà il suo spirito, il suo spirito che cercherà di aiutare, di illuminare gli sposi per far capire che il matrimonio praticamente è un dono di Dio. Nel matrimonio ci sono dei compiti stupendi che Dio ha affidato agli sposi. Un primo compito è quello di testimoniare con il loro amore, marito e moglie che si amano, l'amore con cui Dio ci ama, l'amore con cui Dio Cristo Gesù ama la sua Chiesa, un compito meraviglioso, stupendo. Ancora addirittura gli sposi che sono coinvolti da Dio per la creazione di un nuovo essere umano. Perché se è vero che il corpo lo danno ai genitori, no, però l'anima la crea Dio ed è Dio che coinvolge i genitori in quest'opera di creazione dell'uomo e poi soprattutto un altro elemento. Mi sono sempre chiesto che questo, cioè c'è messo nella Bibbia che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, a sua immagine e somiglianza, ma Dio che ha creato a sua immagine e somiglianza è Dio un e trino. Mi sono chiesto sempre se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, essendo trino, questa trinità dovrebbe apparire, ecco, nell'uomo. E c'è messo la Bibbia che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò. E che significa che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di Dio è l'uomo e la donna come coppia. Allora mi sono chiesto dove appare questa trinità? E per tanti anni i conti non risultavano. Dopo alcuni anni fa, riflettendo e meditando, è venuta subito la luce. Cioè Dio cosa fa dall'eternità? Dio ama se stesso. Quindi amando se stesso è amante perché ama ed è amato. Amando se stesso genera il figlio. Tra figlio e padre una corrente di amore, cioè proprio procede una corrente di amore che lega il padre e il figlio in un abbraccio eterno. Gli sposi, quanto si sposano al celebre sacramento, sono una sola carne. Dunque stanno riflettendo l'unità di Dio. In questa unità di un'unica carne c'è un amante e un'amata, lo sposo e la sposa. Ecco, Dio che ama se stesso. Da quest'amore, no, viene il figlio e dal figlio scaturisce un amore che lega i genitori al figlio, no, che li tiene uniti, vengono aborti in un abbraccio anche di amore. Quello che viene nella trinità. Quindi l'unità di Dio e la trinità. Per cui, guardando una coppia di sposi, noi abbiamo la possibilità di contemplare il loro, il mistero trinitario di quel Dio che Gesù ci ha rivelato, che è padre, figlio e Spirito Santo. Un padre che ama se stesso e genera il figlio e una corrente di amore che lega il padre e il figlio che è lo Spirito Santo. Genitore è un'unica carne, un'amante e un'amata da quest'amore. Ecco, il figlio è una corrente di amore che avvolge il figlio e il genitore. Il mistero trinitario è presente nella trinità. Allora questo mistero stupendo, meraviglioso, che Dio ha dato alla Chiesa, ecco, viene odiato dal diavolo, non vuol sentirne e capiamo tutto l'odio che ha perso il matrimonio. Una coppia che vuole veramente celebrare il sacramento deve avere presente che è Dio punto di riferimento del loro matrimonio, è Cristo Gesù punto di riferimento del loro matrimonio e conseguentemente hanno due possibilità. O imbostare il loro matrimonio impegnandosi reciprocamente ad evitare i difetti, di modo tale che marito difetto niente, moglie difetto niente, un matrimonio che riuscirà. Chi va al matrimonio con questo atteggiamento, il matrimonio già è fallito prima di cominciare, perché per quanto ce la possono mettere tutte e due, marito e moglie, si troveranno sempre limitati, perché ragazzi perfetti non esistono e non esistono ragazze perfette. Esistono semplicemente persone limitate. Conseguentemente, andando al matrimonio a questa maniera, riaffiorano poi i limiti e conseguentemente, dinanzi a questi limiti, non si sopportano e conseguentemente vengono fuori adulteri, vengono fuori separazioni, divorzi. Naturalmente, in questo contesto di fragilità si inserisce anche il diavolo, amplificando, perché amplificando più facilmente si ottiene lo scopo e conseguentemente più facilmente possono essere quegli importi anche famiglie a catena. C'è un altro modo però per rimpostare il matrimonio, che è quello della misericordia. Che significa della misericordia? Cioè, chi va al matrimonio consapevole di celebrare un sacramento e capisce e comprende cosa significa celebrare un sacramento, ha presente Dio. Se uno va al matrimonio e sente il compito di rappresentare Dio nel suo amore verso la moglie, verso il marito, Dio è misericordioso, ci accetta così come siamo. Quindi uno sposo fa al matrimonio accettando la moglie così com'è, non come vorrebbe che fosse. E la moglie accetta il marito così com'è, non come vorrebbe che fosse il marito. E in questo già diventano segni dell'amore con cui Dio ci ama, perché ci ama così come siamo. Non solo, guardando l'amore di Dio, Dio è paziente nei confronti nostri, nel suo amore verso di noi. Allora una moglie che è paziente anche di fronte agli difetti del marito, è il marito che è paziente nei confronti dei difetti della moglie. In particolare Dio lo offentiamo tante volte e Lui nel suo amore verso noi ci perdona. Conseguentemente marito e moglie che sono chiamati a imitare, a rendere presente l'amore di Dio, nel momento in cui ricevono un'offesa dall'altra parte, sono solo disponibili a perdonare, perché Dio fa così con noi. Non guarda Dio noi, ecco, con aggressività nei nostri difetti, con impazienza, con rabbia, no, perché è buono con noi a vita. Allora marito e moglie che imitano tutto questo cercando, ecco, di rimanere, ecco, in questo atteggiamento di mitezza, di bontà, senza rabbia per il limite dell'altro, senza aggressività per gli sbagli dell'altro, perché Dio non lo fa così, Dio è diverso e loro sono chiamati a imitare questo Dio e a rendere presente, visibile questo amore con cui Dio ci ama. E così tutto il resto, cioè la misericordia è quella capacità di non arrestarsi dinanzi al limite dell'altro. Sono personalmente convinto che tutti i problemi di separazione, di divorzio è perché manca la misericordia, la capacità, cioè, di rimanere sereni, miti, dinanzi al limite dell'altro, come fa Dio con noi. Ecco perché chi va al matrimonio dovrebbe avere questa consapevolezza e se si sente di abbracciarlo a questa maniera, perché se non si sente converrebbe di non sposarsi il sacramento, il sacramento è una cosa seria, bisognerebbe invece veramente andare al matrimonio con questa consapevolezza. E chi costruisce il matrimonio così non penserà mai a separazioni, non penserà mai a divorzio, perché è affrontato il matrimonio sopra firman Petra, mi sarebbe, sulla roccia della misericordia, che sa imitare questo Dio che è misericordioso, che non ha mai rotto l'alleanza con noi, nonostante che ne ha devolto lo abbiamo colpestato con i nostri peccati.